il bambino Leo prova, prova, prova... The CEO from Pipeband ok, thanks Alive in Guidonia from Please, Spur in Via Roma Number 1 at the Fairlands Festival Please welcome Alive the CEO from Pipeband ok, so from Via Frangipane Marzio Venuti Mazzi Marzio Venuti Mazzi Presente Ciao l'appello Ci siamo tutti? Siete belli carichi? Le vedo Ma come mai capite lo scozzese puro che io sto parlando? La sa Abbiamo finito? No Ho sempre desiderato dire sa Prova Uno, due, tre Prova Marzio